Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tiposo Viola Caro saluto a tutti i nostri ascoltatori Lunga intervista di Dung Campione del mondo con il Brasile ed ex giocatore Viola Sulle colonne del Corriere dello Sport Dunga ha ribadito le grandi qualità tecniche di Pedro soprattutto nel gioco aereo ha detto che diventerà un grande attaccante Igor invece può puntare a obiettivi importanti purché sappia fare il salto di qualità e anche metabolizzare alcune critiche e infine Dunga augura a Beppe Iacchini di vincere un trofeo proprio a Firenze per Fiorentina1.com Lorenzo Sommigli Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tiposo Viola Grazie a tutti!